Sono Fabio Ambrosi, bentrovati, benvenuti, se non lo avete fatto iscrivetevi al canale YouTube per restare sempre aggiornati e venite a visitarvi sul sito www.fabioambrosi.it Fine dello spazio promozionale, abbiamo anche finito le lezioni teoriche dedicate al video e al montaggio in generale e oggi finalmente lavoreremo con Adobe Premiere Era ora, diranno molti di voi, alcune notizie e alcune nozioni teoriche erano importanti per poter capire quello che andremo a fare nelle prossime lezioni Prometto che da oggi in poi saremo un pochettino più pratici e affronteremo Premiere di petto Lezione di oggi è dedicata a come scaricare e a come installare Adobe Premiere Vi dico subito che tutte le lezioni video che state vedendo in questa playlist YouTube sono disponibili sul mio sito www.fabioambrosi.it Insieme ad un articolo che contiene alcune informazioni aggiuntive, magari rispetto a quelle che do a voce O semplicemente una sintesi di quello che andiamo a trattare durante le lezioni video Quindi fate una capatina sul mio sito, cliccate qui su video, corso gratuito di Adobe Premiere C'è un indice, sia delle lezioni già pubblicate, sia di quelle che andrò a sviluppare nei prossimi mesi Cliccate sull'articolo che vi interessa, c'è scritto un po' tutto quello che ci siamo detti in questi video E anche magari qualcosina in più, o qualcosina in meno a seconda delle varie lezioni Oggi, come dicevo e anticipavo, parleremo di come scaricare e installare Adobe Premiere 2019 Quale versione Premiere utilizziamo? Appunto, Adobe Premiere 2019 Molti mi chiedono, è possibile seguire il corso con un'altra versione Premiere? La risposta è sì Cercate di non andare troppo indietro con le versioni Premiere Diciamo che se avete Premiere 2017 e 2018 va benissimo Se avete una Premiere 2015, cercate di aggiornarlo all'ultima versione 2019 Tra l'altro è bellissima, la vedremo poi magari meglio nelle prossime lezioni Come scaricare e installare Premiere? Oh, importante, cerchiamo di comperarlo Premiere Cerchiamo di non fare i furbi che vanno a comprare o a scaricare una copia illegale di Premiere Perché? Perché soltanto acquistando una licenza legale di Premiere Siete certi di non prendere brutti virus sul vostro computer Siete certi di avere l'ultima versione sempre aggiornata E soprattutto siete certi di avere sempre le funzionalità al top garantite da Adobe Ok? Quindi ci sono dei piani per studenti e per insegnanti Se andate a scuola o se andate all'università Credo che qui sul sito dell'Adobe sia possibile acquistare una licenza scontata Di parecchio Più del 70% di sconto Quindi ecco, fate una capatina sul sito dell'Adobe Se volete studiare o se volete lavorarci, comperatelo Ok? Chiaramente c'è sia la possibilità di comprare solo il singolo Premiere Oppure c'è la possibilità di comprare e di acquistare tutto il cloud Tutto il cloud Adobe Creative Ok? Quali sono i software che sono distribuiti insieme al Creative Cloud? Andiamolo a vedere subito Tutti i prodotti Adobe Creative Cloud Ecco, acquistando il piano full Creative Cloud Avete a disposizione non solo Premiere ma anche Photoshop Avete anche Lightroom, utilissimo per le fotografie Avrete anche Audition per l'audio Avrete anche tante tante altre applicazioni Quindi, quale piano scegliere? Ecco, i piani che mette a disposizione Adobe sono sostanzialmente questi Tutte le applicazioni della suite Adobe costano 60€ al mese O 731€ all'anno Però, come vi dicevo, ci sono anche dei piani scontati Per studenti o per insegnanti Comperato la licenza per il Creative Cloud E installato Adobe Creative Cloud Sul vostro computer Ok? Troverete in basso Se utilizzate Windows Oppure direttamente dentro alle applicazioni del vostro Mac Troverete l'applicazione Adobe Creative Cloud Che è questa Ok? Questa è l'applicazione sostanzialmente madre Che permette, con un click, di installare tutte le applicazioni Della suite Adobe Se avete comprato ovviamente il pacchetto completo con tutte le applicazioni Se avete comprato solo una singola applicazione Avrete soltanto l'applicazione che avete acquistato Ipotisiamo che noi vogliamo installare Adobe Premiere Ecco, noi facciamo click sul bottone installa Senza pensare troppo a cosa e a perché E automaticamente il software scaricherà l'applicazione Premiere E la installerà sul nostro computer Quando sarà pronta e sarà installata Torneremo E andremo avanti con questo tutorial Ale! L'applicazione Adobe è finalmente stata installata Come potete vedere dalla scritta Apri Che compare vicino ad Adobe Premiere CC 2019 Clicchiamo E magicamente il nostro software Premiere Verrà caricato in pochissimi istanti Non dovrebbero esserci problemi Il download L'installazione di Premiere è totalmente automatica E gestita dall'applicazione Adobe Creative Cloud E sostanzialmente questa È la finestra che comparirà davanti ai vostri occhi Appena installato Adobe Premiere 2019 Per la prima volta Se non avete la 2019 e avete la 2018 Dovrebbe comparirvi comunque una schermata simile Di presentazione In cui sostanzialmente vi viene offerta Vi viene offerta la possibilità Di seguire alcuni tutorial base Per orientarvi in Premiere Fateli se volete Ci sono tranquillamente Diciamo Corsi in inglese Credo prevalentemente Sul come lavorare con Premiere Vedete qui c'è uno scopri Premiere Pro Scopri le novità Ecco qui c'è un articolo sulle novità del 2019 Qui addirittura viene insegnato Grazie ad un articolo pubblicato Diciamo appunto da Adobe Come creare il vostro primo video Ecco qui ci sono Sul sito Adobe ci sono diversi materiali Ecco per poter imparare ad orientarsi Su Premiere Se siete pronti Per lavorare con Premiere Con me Tra pochissimo Cliccheremo sul bottone Nuovo progetto E inizieremo A creare il nostro Il nostro primo progetto In Adobe Premiere Iscrivetevi al canale YouTube Per restare sempre aggiornati Sui video Che cercherò di pubblicare Di settimana in settimana Venitemi a trovare sul sito www.fabioambrosi.it Seguitemi sulla pagina Facebook Fabio Ambrosi E vi prometto che da qui Ai prossimi mesi Ecco Vi insegnerò Per lo meno Quello che so Sul meraviglioso mondo Del montaggio E su Adobe Premiere Alla prossima lezione